Confcommercio e l'associazione dei ristoratori contestano i provvedimenti emanati dal governo che limitano le aperture dei ristoranti e anche di molte altre attività economiche. Contestano questi provvedimenti ma nello stesso tempo siamo rispettosi delle leggi e per questo contestiamo gli atteggiamenti, le iniziative pubblicitarie che portano avanti i personaggi come il ristoratore pesarese o il parlamentare Sgarbi, questo incontro nel ristorante di Fano dopo l'orario di chiusura quando tutti i ristoranti rispettano le disposizioni e la chiusura che viene disposta dalle autorità costoro invece si permettono di prendere in giro le istituzioni, di farsi beffe di quelle che sono le disposizioni che tutti invece gli altri imprenditori rispettano pur contestandole ma siamo persone serie e quindi siamo rispettosi delle leggi. Questi comportamenti fanno un danno gravissimo all'immagine della categoria che infatti ha rigettato questo personaggio come proprio rappresentante. Il personaggio non rappresenta nessuno se non se stesso anche perché queste iniziative vanno solamente per farsi pubblicità. Adesso sentiamo che Sgarbi addirittura lo farà eleggere, non so con quale forza, visto che forza non ne ha, farà eleggere parlamentare. Problemi loro, basta che non coinvolgano i problemi di una categoria che invece è una categoria molto preoccupata ma seriamente preoccupata degli effetti economici devastanti che questi provvedimenti hanno sull'impresa ma che non si risolvono certo con queste buffonate, queste sceneggiate e questa mancanza di rispetto per la legalità. Noi siamo per il rispetto della legalità anche se non condividiamo questi molti dei provvedimenti che vengono adottati.